E' stato un periodo intenso fino al 31 gennaio, ci sono ancora altri giorni, però un grande lavoro che è stato fatto con un ottimo riscontro per quanto riguarda le iscrizioni al centro studio di Toneoro di Canicattina. Sì Paolo, dicevi proprio bene, abbiamo avuto un notevole riscontro da parte appunto di ragazzi e delle loro famiglie, questo appunto è il segno tangibile che si sta svolgendo un lavoro eccellente, sicuramente è frutto appunto del lavoro svolto sia nei ormai 15 anni di esperienza nel settore appunto professionale del centro studio di Toneoro, ma anche del lavoro svolto in quest'anno scolastico in corso con i ragazzi dell'operatore del benessere, dove appunto i ragazzi sono molto soddisfatti così come anche le loro famiglie. E' una scuola radicata sul territorio che ha i propri laboratori, che dà un'offerta formativa capace di formare a 360 gradi lo studente, quindi il futuro professionista? Assolutamente sì, appunto la nostra scuola è un polo d'eccellenza per quanto riguarda la formazione professionale, dotata di due laboratori, ben due laboratori dedicati proprio al settore del benessere e per il prossimo anno appunto l'attività si ampliera notevolmente. Tra l'altro appunto Canicattì è una città che da sempre si è contraddistinta per la notevole offerta formativa, sia appunto per la città ma anche per l'Interland. E nel campo professionale, insomma della formazione professionale, ritengo appunto che il centro studio di Toniolo si distingua proprio per la qualità e l'eccellenza della formazione, lo dimostrano appunto i risultati sia passati sia recenti. Per far conoscere la vostra forte formativa e far vedere anche materialmente e fisicamente i locali, avete fatto diversi open day proprio all'inizio di gennaio, adesso siamo al rush finale. Ultimi giorni, ecco quale appello alle famiglie per poter scegliere e poter scegliere bene una scuola, un indizio di studio che possa essere efficace per i propri figli? È detto ancora bene, è una scelta che va fatta in maniera consapevole, razionale, per cui invitiamo i ragazzi e le famiglie a venirci a trovare presso le nostre sedi. In questo momento ci troviamo appunto nella sede di via Pirandello 72-74, definiamo polo benessere, abbiamo anche un'altra sede in via Pirandello 127B. Sono gli ultimi giorni, appunto il risconto è stato notevole, per cui sono in realtà gli ultimi giorni ma anche gli ultimi posti disponibili. Vi invitiamo a venirci a trovare e così da vedere e toccare con mano l'ambiente formativo che riusciamo ad offrire a tutti i nostri allievi, per cui vi aspettiamo. C'è da dire che non c'è soltanto il corso del benessere, ci sono anche altre situazioni, anche soluzioni formative che il centro studio di Tonio a 360 gradi offre agli studenti e alle famiglie. Certamente, infatti gli indirizzi previsti per il prossimo anno scolastico sono quelli di operatore del benessere, delle declinazioni estetista e acconciatore, operatore meccanico, quindi meccatronico, che riguarda appunto il settore delle auto, moto, scooter e anche il reparto elettrico, e dopodiché abbiamo appunto operatore della trasformazione agroalimentare ed impianti termoidraulici. Qualche chicca, avete fatto una partnership con il risultato di Galilei, ma c'è anche un servizio gratuito e commesso a disposizione dal centro studio di Tonio, che è quello del trasporto, per gli alunni residenti nelle città nimitrofe che arrivano a Canichetti e hanno anche questa possibilità, questa agevolazione. Assolutamente, quindi la partnership è una cosa molto importante per noi, siamo fieri di appunto aver stretto questa coprogettazione con il Galilei, proprio per offrire maggiore serietà e qualità nel settore. E un'altra cosa importante appunto è il servizio navetta, totalmente gratuito e dedicato con nostri mezzi, e non è una trovata pubblicitaria, o non lo dico appunto per semplice campanilismo, ma è appunto una soluzione che ha in realtà un fine didattico, perché comunque in questo modo i ragazzi arrivano puntuali alle lezioni e soprattutto tornano in maniera puntuale a casa, così da avere appunto il tempo necessario per le loro attività, sia didattiche ma comunque ricreative, perché sono sempre ragazzi che provengono dalla scuola media, sono in un percorso superiore, è giusto che facciano anche le loro attività sia didattiche che ricreative.